Pyrre è la parola greca che sta a significare fuoco, fiamma. E sembra che questo lemma sia all'origine del nome di una delle cittadine più belle della costa estriana, un vero e proprio monumento alla storia culturale dell'Istria. E questo nome è legato fin alle prime attestazioni, nel VII secolo a.C., ad opera di un geografo anonimo Ravennate, per quella che è Pirano, una delle cittadine più belle dell'Istria. E questa parola è quanto mai indicata perché dove oggi sorge il Duomo di San Giorgio, un tempo venivano accesi fuochi che indicavano la via ai naviganti. Il nostro viaggio inizia da un bellissimo scorcio su Pirano, in cui si vede davvero come la città affondi completamente nel mare. E da qua su, oltre a una vista mozzafiato, si può anche immaginare quale fosse la conformazione urbanistica di Pirano qualche secolo fa, con l'insediamento originario di Punta e quello di Marciana, che deve il suo nome alla colonia di Gensmarcia, che si stabilì qui in tempi antichissimi. E qui, chiudendo gli occhi, possiamo fare anche un altro pensiero e immaginare come doveva essere questa bellissima cittadina quando la famosa piazza Tartini doveva essere ancora un'insenatura di mare. E lì ci fossero tantissime di quelle barche che solcavano i mari dell'Adriatico. Queste stratificazioni della storia sono i segni delle persone che hanno vissuto su questo territorio. E questo si vede anche in questo meraviglioso punto, che rappresenta l'ultima cinta muraria di Pirano, realizzata tra il 1470 e il 1533, quando era ancora piuttosto importante difendersi anche via terra, soprattutto dalla minaccia turca. Il viaggio che faremo oggi con la nostra Arca dei Saperi sarà proprio cercare di andare alla scoperta di tutte quelle tracce, tracce che hanno bisogno di custodi lungimiranti, che se ne prendano cura per fare sì che arrivino alle generazioni future. E la nostra via sarà illuminata da due simboli della città di Pirano, simboli che recentemente hanno trovato nuova vita, perché sì, qui Pirano è una città sicuramente meravigliosa, protesa nella bellezza dell'Adriatico, ma la Salsedine elabora non danno tregua ai suoi monumenti. Il protagonista della bellezza di vedere Pirano dal mare è l'Arcangelo Michele. Recentemente ha lasciato la sua sede su questo campanile ed è andato a Lubiana per un lavoro di restauro. Don Zorco, questo simbolo di Pirano ha dovuto subire un piccolo intervento di restauro. Anche gli angeli hanno bisogno di aiuto. Tutto è iniziato più di un anno fa, quando la parrocchia ha deciso di ristrutturare la scala del campanile, che era in pessime condizioni, e abbiamo deciso di cambiarla. Così ci è venuta l'idea di darle un'atmosfera angelica, mettendovi predicamenti degli arcangeli in ebraico, greco e latino. Per uno strano scherzo del destino, un mese dopo l'inizio dei lavori, la Bora Scura ha danneggiato un'ala dell'Arcangelo che alle nove del mattino, dal campanile, è finita in piazza Tardini. Grazie a Dio non è successo niente, ma per me è stato un segno che anche lui aveva bisogno di attenzione e cure. Naturalmente, Don Zorco, parliamo di una statua di quasi 4 metri, 3 metri e 70, 320 kg, mi correga se sbaglio, e questo non è il primo restauro a cui è stato sottoposto l'Arcangelo Michele? Adesso abbiamo avuto la possibilità di misurarlo e pesarlo. È alto 3 metri e mezzo e pesa circa 250 kg. Quest'anno l'Arcangelo compie 250 anni da quando è stato posizionato sul campanile, un anno prima della scoperta dell'Australia nel 1770 da parte di James Cook. Da allora l'Arcangelo è stato esposto a sole, vento e sale, così ogni 100 anni ha bisogno di essere restaurato. Gli ultimi lavori risalgono al 1908, lo sappiamo dai testi e da fotografie, ma mentre allora era stata usata un'impalcatura, grazie alla tecnologia oggi è letteralmente volato sul cortile della parrocchia. L'Arcangelo Michele continuerà a mostrarci la via? L'Arcangelo Michele appare sempre nell'iconografia insieme a San Giorgio. Entrambi combattono le avversità e il male, ma l'Arcangelo ha una funzione in più, le previsioni meteo. E adesso che è stato restaurato nel suo meccanismo, è pronto per nuove sfide e per vegliare sul nostro lavoro dall'alto del campanile. E se l'Arcangelo Michele dalla sua base rotante è in grado di definire le direzioni dei venti e in qualche modo completare quello che è stato l'ex voto per cui è stato realizzato il Duomo di San Giorgio, per cui San Giorgio ha protetto Pirano dalla tempesta, un altro simbolo importante di questa meravigliosa cittadina affacciata sul mare è il suo faro, il faro di punta della Madonna, che recentemente è stato recuperato dalla Cannes. Un compito importante è quello di recuperare queste storie, Nadia Zigante. La scorsa estate abbiamo ricevuto in gestione per cinque anni il faro di punta Madonna. È stata una sorpresa anche per noi. Io personalmente guardavo sempre questo faro, una struttura bellissima, ma era sempre chiusa. E allora abbiamo pensato, ma perché non chiederlo al comune, perché non fare un progetto e vedere se ci andava in porto questo progetto? Beh, ce l'abbiamo fatta e ci è stato assegnato il faro e da agosto l'abbiamo aperto al pubblico. Questa struttura si può dividere in due parti. C'è la cinta muraria, il bastione che è di origine veneziana, era una struttura difensiva, è in pietra arenaria, si vede più scura. Poi invece dopo, nella seconda metà dell'Ottocento, in periodo austriaco, è stato costruito il faro in pietra bianca di Istria. È una bella struttura solida e dove si trova anche l'appartamento del guardiano del faro. Noi ci riteniamo i custodi di questo patrimonio, perché basta guardare qua attorno, tutto parla di Venezia, di italianità. E abbiamo deciso che questo era anche il nostro compito, perché forse siamo quelli più adatti a prenderci cura del nostro patrimonio. E finalmente dopo tutto questo girovagare siamo arrivati nel cuore della città, quella piazza Tartini che ci ricorda che è un tempo fino a cui arrivava il mare e qui c'erano le barche. Ma Tartini mi ricorda anche un'altra storia legata a Pirano. Infatti vicino al Duomo di San Giorgio, su cui risvetta l'Arcangelo Michele, è stato battezzato nel Battistero di San Giovanni proprio Giuseppe Tartini, l'8 aprile del 1692. E così noi siamo scesi da questo sperone di roccia arenaria per inoltrarci nel cuore della città. E qui siamo arrivati in un luogo caro, alla vecchia barca dei sapori di Marino Vocci, la bottega dei sapori, dove la chef donna Sara ha preparato per noi tre piatti straordinari. Qui Adam, la cucina è davvero una mescolanza di tradizione che si sente fortemente nelle mani sapienti, nell'ordità di Sergio? È innovazione. Sì, è un misto, sì, tradizione, innovazione, un misto anche un po' della cucina francese, istriale. Poi sono le nuove idee che io e mia moglie Sara e il chef mettiamo nei piatti, forse più lei che io, ma cerchiamo di inventarsi una cosa di nuovo. La curiosità e la contaminazione sono strumenti fondamentali anche per sperimentare in cucina. Sì, poi tra l'altro si arriva a questo punto andando in giro, provando magari altri ristoranti, non solo in Slovenia, in Italia, in pratica, in giro. Contaminazioni che ci permettono di tornare ad essere grandi custodi del territorio. Oggi abbiamo cercato di raccontarvi storie legate alla Salinarolla dell'Istra, questa straordinaria città affacciata sull'Adriatico, che in ogni suo angolo, in ogni sua sorta, in ogni sua pietra ci racconta grandissime storie legate al passato. Ma è importante guardare con lungimiranza al futuro, come fanno Sara ed Adam, rimanendo ben ancorati alla nostra straordinaria terra rossa estriana, che offre dei prodotti fantastici che possiamo gustare anche a tavola. Quindi, grazie custodi, uno sguardo al futuro e cordialmente ciao!